come ti definisco game game design si è più semplice comprensibile game designer ma ho letto aspetta cosa stavo leggendo prima che ri nella top ten del sì la parte di gamification che è una sottobranca del design dei videogiochi cos'è la gamification e applicare le logiche dei videogiochi le meccaniche le dinamiche le pratiche e portarli in settori che nulla hanno a che fare con i videogiochi quindi per spingere le persone ad adottare un comportamento più che un altro viene utilizzato delle aziende in ambito marketing per fare recruiting formazione del personale denti pubblici e quindi una sottobranca quello che alla fine l'utente percepisce non è un gioco non è un videogioco perché non sta giocando ma all'interno ci sono delle logiche delle logiche del gioco normalmente i punti delle barre delle sfide cose di questo tipo che ormai stanno entrando in molte esperienze di design e quindi tu sei il fondatore di tuo museo che è una realtà che in realtà cerca di far proprio questo cerca di mettere in relazione il l'idea di gioco alle regole che stanno alla base dei videogame in ambito culturale si è nata con una sfida che è quella di far convergere due mondi apparentemente lontani tra di loro la cultura e i videogiochi da una parte perché noi proveniendo dall'industria dei videogiochi riteniamo che questo media sia di per sé un'espressione culturale artistica però questo è un obiettivo a lungo termine c'è ancora tempo in italia e quindi io non ne parlo non ne parlo quasi mai perché giustamente riguardano ma la seconda è che invece sembra che stia passando è iniziare a utilizzare diciamo i videogiochi ma in generale politiche di engagement per supportare una serie di obiettivi e missioni che le istituzioni culturali storicamente già hanno cosa non siete riusciti a fare fino adesso sono stati è nato in tre anni fa come se è giovanissimo è stata una bella galoppata che poi si è tradotta in una serie di progettualità concrete father and son firenze game pass for future poi c'è il portale mai lombardia che all'interno di un bando che avevamo vinto per connettersi tu ne esco con delle logi di gamification una parte dell'allestimento del museo di tuoro in umbria quello della battaglia di annibale dove chi si reca ora trova un cinema 4d quindi con le sedie che si muovono e quant'altro con un video da guardare in 3d attraverso degli occhialini collegato ad annibale la battaglia di annibale sul trasimeno la particolarità di questo video al di là della sala 4d e che tutto questo video è stato realizzato utilizzando rom total war che un videogioco della siga commerciale aveva chiesto il permesso alla siga di entrare abbiamo rimodificato le ambientazioni abbiamo dislocato gli eserciti in accordo con il direttore del museo quant'altro abbiamo ricreato 10 minuti di video in meno di due mesi utilizzando un motore che già esisteva ora stiamo per uscire con due nuovi videogiochi a marzo ancora non sono stati comunicati ma sono per altrettante istituzioni culturali uno sarà per un teatro della prima volta che un teatro produce un video sarà molto diverso dagli altri però è per un teatro nazionale l'altro invece riguarda un territorio un popolo e un territorio questi diciamo i due progetti stiamo lavorando su faderenzan 2 e poi ho provato a giocare con faderenzan come è nata questa cosa col museo archeologico di napoli cioè abbastanza particolare che un museo del sud poi fra l'altro si apre una cosa del sud in italia è forse il mondo più chiuso verso questo genere di novità sono particolari anche perché noi eravamo appena nati il videogioco uscito nel 2017 ovviamente per considerando i cicli produzione un videogioco e meravigliamente sono sette otto mesi lo sviluppo è partito ad agosto 2016 noi eravamo nati credo un mese prima ci chiamano loro noi avevamo appena vinto questo bando tuo museo nasce per un motivo perché abbiamo vinto un bando chiamato innovazione culturale di fondazione caribbo altrimenti tuo museo non sarebbe mai nata nel senso che io gestisco altre società che però utilizzano i videogiochi ma in ambiti completamente diversi e così tutte le persone che oggi stanno lavorando in tuo museo quindi è stato veramente la scintilla per metterci insieme attorno a un tema comunque particolare e ho appena nati ovviamente io stavo iniziando a partecipare ad alcune conferenze avevo scritto dei primi articoli quindi un pochino iniziava a circolare però non esistevano esempi concreti non che videogiochi e musei non siano mai assistiti in senso assoluto assiste un'ampia letteratura di giochi per la didattica museale giochi fisici ma anche alcuni esempi di giochi digitali di edutainment però quello che noi volevamo provare a fare era ribaltare la logica cioè che i musei si facessero publisher di giochi in grado autonomamente di stare sul mercato di piacere a un pubblico che non è per forza e anzi quasi mai ormai coincidente con quello di che visita il museo prima di andare a intercettare nuove fasce di pubblico che magari persone che non conoscono né il museo né Napoli nel caso specifico né l'Italia ma che lo trovano sugli store così come scaricano fortnite piuttosto che candy crash decidono di scaricare questo gioco perché sono incuriositi dalla trama dalla grafica dalla storia e quant'altro in questo caso il museo attraverso il direttore paolo giulierini e il professor ludovico solima avevano inserito nel piano strategico la dicitura che tra le tante attività da svolgere nel quinquennio sarebbe stata anche quella di un gioco non meglio specificato quindi l'idea che è partita allora sì assolutamente partita allora nel senso che c'era gioco poi il gioco si può declinare in diecimila modi questo ragazzo al tesoro questo gioco fisico ma hanno chiamato e abbiamo iniziato a svolgere una serie di riunioni era l'estate del 2016 al termine di queste riunioni è venuto fuori un brief quindi almeno quali erano gli obiettivi che il museo voleva raggiungere molto cambiati rispetto alle prime riunioni perché si è capito che il gaming e in generale tutto ciò che è digitale ha molto senso se lo si dimensiona almeno in una scala europea non ha senso per me tranne casi specifici per obiettivi specifici utilizzare il digitale per andare a intercettare un pubblico che già hai che già entra perché un depotenziamento dello dello strumento l'altra cosa che su cui ci siamo trovati tutti d'accordo e anche uno dei motivi fondanti di tuo museo noi vogliamo realizzare prodotti che innanzitutto devono coinvolgere le persone e una volta che le persone sono coinvolte proviamo a trasferire un po di contenuto anche culturale in questo caso allora nel videogioco ci sono alcune opere ma il gioco non parte nel museo il museo nella scheda nel nome del gioco non viene richiamato poi ci sarà ci si andrà ma solo quando il giocatore inizia a essere coinvolto e da lì è andato lo scopo principale dell'engagement era raggiungere nuovi pubblici che il museo non sarebbe mai stato in grado di raggiungere attraverso altre forme di comunicazione coinvolgere i pubblici emozionare i pubblici quindi creare una associazione emotiva tra l'esperienza se giocato fada renzani in generale l'esperienza sostanzialmente di tipo motivo alla fine un libro interattivo un film interattivo più che un gioco guidato da meccaniche dove si vince si perde classifiche cose di questo tipo e quindi generare innanzitutto un posizionamento diverso per il museo anche come app di produzione app tecnologico quell'anno il male è stato eletto museo dell'anno da art tribune quest'anno art tribune ha scelto pass for future come progetto culturale digitale dell'anno e quindi attraverso una serie di articoli di stampa di paper è diventato case study a livello MIBAC a livello europeo il mare è iniziato a riposizionarsi poi da lì sono partite tutta una serie di altre cose ed è uno degli obiettivi quello di rendere il museo accessibile a chi fisicamente non è nel museo un ulteriore mezzo per creare accessibilità era un modo è stato un modo anche interessante giochi disponibili in sette lingue per aprirsi la strada in territori dove sarebbero arrivate delle mostre faccio ad esempio la cina si è deciso di puntare molto sulla cina gioco in cinese sono fatto una serie di azioni e comunicazione perché l'anno dopo il man avrebbe prodotto una mostra che sarebbe andata in cina in cina e il videogioco è stato il primo elemento di contatto con il mondo dell'italia e il videogioco era presente pesantemente negli allestimenti di questa mostra perché le persone hanno prima conosciuto il videogioco è stato più facile e poi ovviamente qualcuna delle cose che ho imparato da questa avventura noi tendiamo a essere autoreferenziali ma il giocatore del manga dell'india della tela del cinese non solo non sa nulla del manga non sa nulla dei romani ma non sa neanche fisicamente dove si trova l'italia questo l'abbiamo visto da una serie di dati cioè non sa che l'italia nel mediterraneo sono in una certa parte del mondo e quindi queste operazioni possono servire a creare una prima cornice paletto della quale va un'attività più verticale di gestita direttamente dal museo cioè quindi un potentissimo strumento di marketing diventi in questo caso è stato per loro anche un forte strumento di marketing a un costo che se andessimo a suddividere il costo dell'operazione per il numero dei giocatori uscirebbe una media tipo 0,00 qualcosa di costo chiamiamolo così di di coinvolgimento dell'utente anche perché rispetto a un video una brochure il videogioco richiede per forza una partecipazione attiva quindi anche i conteggi sono tipo diversi il videogioco deve averli aggiunto scaricato e quindi non sono attiva non è un video che vedi in metropolitana dove si conteggia non sono stati cinquante visite ma magari è ridistrato non sai se l'hai visto tutto esatto il videogioco quantomeno devi averlo tu scaricato e poi noi abbiamo dei dati è iniziato poi c'è chi lo finisce che si fa un certo punto poi anche lì sono delle segmentazioni e quindi poi è stato imparato molto chiaro stavo vedendo un tuo video qualche giorno fa dove parlavi di una cosa molto interessante cioè il modello di business del videogioco applicato alla realtà museale questa è una cosa che mi ha colpito sono diversi anni che anche oggi attorno a questi argomenti però in realtà è proprio sono due schemi che si possono in realtà oggi sovrapporre in una maniera se vuoi quasi elementare quasi banale però in realtà non non si riesce a far passare questa cosa mi ricordo sui videogiochi ormai sono quasi integralmente basati sul free to play nel senso fino a dieci anni fa il 95 per cento del mercato dei videogiochi era un mercato similare a qualsiasi prodotto e bene di consumo si pagava prima di vivere l'esperienza e in questo molto simile ai musei dotati di bigliettazione indipendentemente da se ti piacerà non ti piacerà se lo conosce o non lo conosci se ci passerai un minuto o dieci ore tu devi pagare in anticipo poi puoi anche uscirtene a quel punto non gli interessa più l'istituzione ma così come a chi creava il videogioco una volta che qualcuno ha comprato il mio videogioco o che io avevo rilasciato il mio videogioco io come azienda iniziavo subito a lavorare su quello successivo poi dei dati di utilizzo mentre poi mi guardavo ma mi interessava relativamente poco il passaggio da un mercato paper download a uno free to play portato avanti soprattutto grazie al digitale gli store mobile prevalentemente implica un cambio fondamentale anche l'euro di design dell'esperienza cioè paralosalmente il mio lavoro inizia nel momento in cui io rilascio il prodotto che da quel momento si vede se io potrò guadagnare o meno detto brutalmente per guadagnare vuol dire che le persone devono probabilmente giocarci un po di tempo la mentalità del progetto cambiato proprio l'industria in maniera incredibile questo alla fine però ha contribuito sta contribuendo a farla crescere ancora in termini numerici in questo momento è una delle industrie più florida in assoluto sta facendo dei numeri pazzeschi il mondo del videogame perché quello che è successo è che prima una persona spendeva 60 euro poteva godere in maniera illimitata il prodotto ad oggi l'arpu lavareggiore avere un per user sta salendo nel senso che una persona può arrivare anche a spendere 1000 euro sul singolo gioco perché esistono delle microtransazioni continue per velocizzare l'esperienza per abbellirla e così via quindi è cambiato molto e l'idea provocazione era emersa anche in uno dei progetti di una call che coordinava l'anno scorso chiama playable museum award del museo marino marini che tra l'altro partirà la seconda edizione una call dove si vincono 10 mila euro reali per immaginare il museo del futuro attraverso delle semplici idee una di queste idee era molto interessante sostanzialmente ipotizzava un museo in cui tutte le opere sono nascoste da una tendina di tipo automatico tu non sai che cosa si cieli dietro ma hai dei dei piccoli indizi nella didascalia un po come quello che fa la feltrinelli alcune feltrinelli hanno alcune anche libri indipendenti all'ingresso hanno dei libri incartati che tu puoi acquistare dove c'è non c'è il titolo del libro ma qualche indicazione qualche hashtag ti immagino così ogni opera ha un prezzo diverso 50 centesi 100 centesi tu avvicina carta di credito metti l'equivalente in contante ti si apre solo per te per alcuni secondi ma questo è diciamo la rendere plastica l'idea di un museo ovviamente questa è un'estremizzazione esatto questa è assolutamente un'estremizzazione ma l'idea era che ci possano essere delle forme di pagamento individuali all'interno dell'esperienza non tutti sono interessati a vedere tutto mille quadri soprattutto i nuovi utenti i nuovi pubblici chi entra per la prima volta tant'è che io parossalmente a livello di user experience dovessi organizzare il flusso di visita di un museo uno dei primi discrimini che si fa nei videogiochi è per tipologia di giocatore allora il giocatore che sta giocando per la prima volta un mio prodotto io non gli do subito tutte le armi tutti i mondi ma deve partire all'inizio solo con un mondo l'equivalente potrebbe essere far vedere solo alcune opere percorso anche perché lui non daresti le informazioni che lui non sarebbe in grado di trattenere e questo diventerebbe anche prodromico a una visita successiva perché io so che ci sono tante altre cose la prima volta ho potuto vedere solo un percorso una sala la seconda volta vedo che questo è il principio che sta funzionando tanto per alcune realtà che si occupano di teatro immersivo compagnie come Pudge Drunks inglese con spettacoli tipo slip no more tu per assistere a tutto l'arco narrativo di uno spettacolo si deve andare almeno tre volte perché si svolge in diverse location un po' sorta di escape room puoi toccare gli oggetti quindi per completare tutto devi andare almeno due o tre volte quindi aumenta la capacità individuale di spesa o quella che nei videogiochi chiamiamo la replayability videogiochi funzionano perché tu li puoi giocare anche più volte non cambia la struttura complessiva chiaro piccoli dettagli o piccole challenge che la prima volta non te erano state poste così infatti parlavo con facciamo un discorso che andava un po in questa direzione con roberto grandi che il presidente dell'istituzione bologna musei e lui ipotizzava proprio nel futuro un museo dove tu ci puoi andare anche un quarto d'ora cioè ti vedi una due opere il sabato pomeriggio stai passeggiando per negozi una mezz'ora lo vuoi dedicare a vederti due opere ti vedi a vedere quelle due opere poi basta esce ci torni a se fine settimana dopo ci torna il mese dopo a vedere un'altra cosa non è necessario che però questo presuppone da parte del visitatore un cambio di mentalità notevole perché c'è purtroppo oggi la mentalità un po fra virgolette diciamo così del turista no vai all'ufra te lo devi vedere tutto c'è che una cosa allucinante impossibile che dopo 20 minuti non capisci più niente c'hai mal di schiena c'è gli occhi di roba non c'è alla fine non che ti rimane ti rimarranno una o due cose in mente assolutamente quindi viene molto il lavoro deve essere proprio quello di educare il pubblico a fruire della cultura dell'arte in una maniera differente e disegnare le esperienze di fruizione di conseguenza che questo si effettivamente il videogioco può essere in realtà un maestro in questo senso perché in realtà i millenials che sono il pubblico futuro presente e futuro dei musei i millenials ormai hanno questa mentalità quindi si tratta di fargliela trasferire anche in ambito artistico e culturale in ambito di esperienza museale quale potrebbe essere un modo per andare in questa direzione anche perché bisogna combattere su due fronti in realtà un fronte lato visitatori un fronte lato management dei musei che ovviamente è ben lontano dall'essere pronto a questo genere di approccio la sfida è oggettivamente immane perché se sono veri dati istat sostanzialmente non abbiamo pubblico culturale comunque estremamente rarefatto nel segmento under 25 soprattutto nel segmento 19 25 ad eccessione delle biblioteche sono per alcuni discorsi ma diciamo rimanendo più sul teatro aree archeologiche musei con un picco assurente negativo 19 25 e nell'età precedente ancora ci sono dei segnali incoraggianti ma sono legati comunque alle deportazioni forzate della scuola attività didattiche e questo ci dice che è lì e su quei target sui cambiamenti loro comportamentali o su come loro investono il loro tempo dove lo investono che bisogna andare a indagare e eventualmente aggredire il problema per cui una sicuramente una delle sfide e uno dei primi attriti è la non competizione tra un museo e l'altro sono di cos'è spesso ma già questo non è una cosa semplice fare rete in italia è ancora un di quelle cose che si dice sempre ma poi in realtà nella pratica non si riesce mai a fare che la competizione a quel punto invece tra un museo e netflix che infatti la competizione oggi è sul captare tempo è quello credo assolutamente sia la sfida dei musei su quali al momento non sono assolutamente attrezzati anche perché detto banalmente credo che nessun museo in italia analizzi le metriche temporali al di là dei numeri di quanti sono arrivarci le metriche temporali analizzano neanche se sono più uomini o più donne o da dove vengono quindi è quello porta con sé una serie di problemi perché bisogna capire perché le persone riescono rimanere sul divano c'è una serie di esperienze che cosa offrono in più rispetto a quello che fanno ci sono molti accorgimenti anche proprio all'euro di user experience i brani musicali spotify o i video o i film su netflix che seguono quello che tu hai visto in precedenza il fatto per esempio si parla di cose puramente di design che una puntata tra una puntata e l'altra non vi sia uno stacco ma parte immediatamente senza che tu debba mettere coprire neanche l'azione di andare a cliccare sulla seconda puntata ci sono tutta una serie di piccoli accorgimenti sarebbero replicabili il secondo attrito è una volta abbiamo convinto cosa non faccio una persona a uscire dagli spazi chiusi in cui nel 99 per cento e poi cominciano ad entrare in un museo piuttosto che andare al ristorante o alla piadineria o da zara e quindi sono due due momenti di attrito sui quali bisogna bisogna lavorare ci sono dei casi in cui è dei musei o delle istituzioni che sono riusciti e hanno come target principale quello di un bacino di anni e 35 penso allo zkm di carslue il centro di arte e tecnologia però siamo dei pochi è l'unico in germania la qualità media sotto i 35 anni parliamo di quei 250 mila visitatori l'anno e una città come carslue che è la periferia della germania ecoculturale tipo geografico e quant'altro l'ha fatto attraverso un'idea diversa di contenitore museale e sia un luogo in cui va a consumare cultura perché ci sono delle mostre continuamente rotazione però è anche soprattutto un luogo di produzione nello stesso stabile convive il museo ma convivono anche dei dipartimenti universitari che contribuiscono alla produzione è un luogo in cui puoi decidere a quale mostra entrare con biglietti singoli separati mostre che toccano di target diversi c'è una grande piazza comune al centro che invece ha affluzione gratuita dove le persone vanno su una serie di servizi e gratuiti altra pagamento molto interessante un modello interessante sì al momento credo che sia uno di quelli che mi ha impressionato maggiormente anche alla luce dei numeri che stanno facendo c'è anche un immensa aria concerti è un modello diverso di museo e poi ci sono tutti i nuovi esperimenti fatti da team lab è stato quest'estate al mori building digital team lab c'è un museo e questo così come alcune mostre hanno capito alcuni tratti identitari di questa generazione per esempio quello che chiamano instagram ability di un luogo o di un'esperienza meglio dire e quindi quel museo è nato ad uso e consumo anche di questa componente psicologica molte mostre ho visto che hanno integrato delle aree delle aree predisposte per fare dei selfie io leggevo un'indagine per cui è uscita due settimane fa sui millenials inglesi il 40 per cento sceglie i luoghi in base all'instagrammabilità cioè ci sono degli spot post dove poter fare delle foto un certo tipo so che alcuni tour operator molto grandi da centinaia migliaia di persone cinesi chiedono per decidere se portare il sito di una città un altro un hotel o un altro un elenco di almeno 10 selfie point proprio dal catalogo questo è per dire comunque come stanno cambiando anche gli immaginari e più c'è sicuramente una componente di interazione che ormai è fondamentale e che oggi pochi hanno saputo si può fare in diverse forme intercettare cioè l'importante non è come lo fai non è detto che deve essere per forza multimediale può essere tranquillamente anche analogica basta che permetti al visitatore in qualche modo di entrare in relazione fisicamente se vuoi o mentalmente con col contenuto della mostra sentirsi anche lui in qualche modo protagonista io parlo sempre di un passaggio dallo storytelling allo story doing che sono sette un passaggio da brutalmente da una fase passiva ad una fase attiva lo story doing nei videogiochi è ciò che li differenzia dagli altri media cugini nel videogioco se non prendi costantemente le decisioni il gioco non prosegue non parte proprio se non premi start ti arriva ti porta fino a dei finali multipli spesso infatti questo è quello che un po le mostre oggi dovrebbe essere quello che anche io in alcuni progetti che ho seguito ho cercato di fare quello di cercare di dare al visitatore sempre qualcosa da fare per andare avanti con un'interazione un momento di partecipazione un momento di decisione anche per poter proseguire all'interno della mostra e non vedersi la mostra come al solito in modalità passiva come se stesse davanti a una televisione o davanti a un sì quella però c'è una una delle sfide non facili anche perché larga parte dei nostri musei sono ancorati a una grande fisicità dell'ottocento ma gran parte dei nostri musei e abbiamo una grande fisicità anche dal punto di vista degli oggetti e questa sovrabbondanza sicuramente ci ha invitato meno a riflettere sul componente aggiuntivo abbiamo così tanto rispetto ad altre nazioni dove sono dovuti interrogare su come fare un po seduti sul che abbiamo quindi il videogame in realtà potrebbe avere una doppia valenza da un lato quello di modello da un lato quello di modello di business proprio a tutti gli effetti da un lato quello di strumento di marketing come può guadagnare il museo direttore adesso per convincere il direttore del museo più no restino dice vabbè io devo investire tutti questi soldi in videogame che il ritorno economico ce ne ho subito è possibile creare un sistema per cui possa anche essere uno strumento di guadagno direttore possono essere tante modelli museo publisher io sono assolutamente convinto che la tecnologia non dovrebbe essere mai un costo ma è un'opportunità ti apre potenzialmente delle opportunità quindi già è un passaggio logico mentale procedurale rispetto alla concezione anche italiana della tecnologia applicata ai beni culturali come qualcosa che via un bando via un finanziamento io sviluppo la tecnologia te la do e poi sono sostanzialmente questioni tue la tecnologia quindi è un costo poi può essere inutile per tante cose questo ovviamente non si discute il cambio di prospettiva deve essere che la tecnologia non può e non deve essere un costo e quindi sin dal day one l'operazione va costruita in un clima di partenariato pubblico privato quindi non ci può più essere la logica del capitolato a cui segue la tecnologia uno perché è tutto così veloce quel capitolato già dopo sei mesi è sostanzialmente infattibile è perché la tecnologia richiede abbiamo detto all'interno di questi paradigmi che stanno cambiando che il lavoro inizi nel momento in cui la tecnologia viene messa a disposizione del pubblico quindi inizierà a analizzare i dati fare aggiornamenti quindi è un lavoro di medio lungo termine per forza personalmente il lavoro inizia quando la tecnologia viene resa disponibile al pubblico non è la fase di preparazione di deployment della tecnologia e quindi anche contrattualmente quella logica dei bandi non può più funzionare tutte le operazioni di cui ti parlavo prima nascono invece in una modalità totalmente diversa non c'è un bando che corrispondiamo ma creiamo un'operazione sediamo al tavolino vediamo le risorse è innegabile che il pubblico contribuisca nella fase iniziale ma in tutti i progetti stiamo cercando modi diversi per garantire una qualche forma di ritorno diretto indiretto nel caso specifico di un cerchio di una zona di napoli si è scelta un'opzione indiretta ovvero tu puoi giocarlo comodamente stando seduto sul tuo divano in bangladesh ma solo se ti recchi all'interno del museo regionale di napoli quindi paghi 12 euro del prezzo del biglietto sblocchi dei contenuti aggiunti all'entrano del gioco direttamente certificati noi abbiamo circa 24 mila persone che hanno pagato 12 euro quindi vuol dire circa 260 270 mila euro ma si riesce a capire la provenienza di queste persone abbiamo questa questa serie di dati noi abbiamo quasi un 30 per cento che non italiani quindi non da napoli venivano sono venuti appositamente da fuori ovviamente quello questo noi non lo possiamo tracciare direttamente ma quello che creiamo è che il videogioco abbia contribuito a generare un immaginario turistico nuovo andando a leggere ci sono circa 40 mila recensioni sugli store apple e google di quel gioco lì perché molti dicono soltanto sono pubblicamente visibili e molti dicono appena avrò l'occasione ci voglio andare hanno inserito in qualche modo nella wish list mentale quindi uno stimolo in più diventa nella tua esperienza di ricerca turistica se è un luogo in cui di cui ti innamori attraverso un videogioco quindi in realtà il man in qualche modo lo ha già ammortizzato totalmente totalmente oltre a tutta serie di altri impatti 350 articoli stampetta internazionale e così via il lato di ritorno di brand diciamo da un lato e lato di ritorno economico questo è uno dei metodi su altri prodotti stiamo lavorando su linee di merchandising specifiche integrate si può lavorare sulla possibilità di inserire delle audioguide ufficiali e a pagamento all'interno però della cornice del videogioco cioè quando ti trovi davanti a una certa opera davanti a un certo palazzo della città in una modalità alternativa di gioco quindi non più quella narrativa puoi sentire delle audioguide magari con la voce però del protagonista del gioco ti racconta quelle cose e questa può essere una micotransazione aggiuntiva nella narrativa si possono chiedere delle donazioni a un certo punto nel gioco le possiamo mettere che quella certa opera sta per essere distrutta o magari c'è bisogno di restaurarla e tu puoi inserendo all'interno della narrativa noi possiamo chiedere che una donazione perché sta accadendo qualcosa nel gioco che impedirà di avere ancora quello e così si può mettere in sistema micotransazioni per sbloccare dei livelli aggiuntivi si possono fare mente delle partnership con aziende per fare in game placement quindi certo punto un telefono che appare nel videogioco una seconda di qui ci possono essere varie varie strade possibili percorribili e questo dipende tutto dal secondo te un'idea del genere potrebbe funzionare anche il museo di istituzione che sta lì nel tempo e quindi è un investimento che riesce ad ammortizzare nel tempo ed ovviamente ne analizza i dati in un certo potremmo applicarlo anche alle mostre temporane che invece comunque hanno dei 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 tempi molto più veloci mostre temporane dico che magari oggi stanno qui domani stanno in un'altra città però durano magari un anno ma io credo che i progetti culturali specifici parli videogiochi perché il media conosco meglio ma questa riflessione può essere stessa ad altri linguaggi possono aiutare nel caso specifico tu segnalavi nelle fasi pre post soprattutto per iniziare a creare un interesse intorno per iniziare a creare dei livelli di coinvolgimento del pubblico attorno a questo al soggetto principale della mostra per cui loro iniziano interagire si possono bloccare poi anche forme di rewarding di cuponistica questa esperienza poi entri e vivi l'esperienza della mostra e poi magari la continui nuovamente ritornando sul digitale quindi creando questa sinergia fisico digitale che è un altro dei temi che ci sta che ci sta a cuore questo questo credo che sia fattibile credo che non venga praticamente mai esplorato perché in generale ma questo va anche nei musei nelle mostre ci si focalizza sempre su cosa accade nell'asso temporale nello spazio fisico della mostra mai nella fase pre la fase pre magari inizia a essere avanciata sui social la parola della comunicazione anche lì perché purtroppo sono sempre dei grandi problemi di programmazione che non si riesce a fare non siamo in grado di gestire il museo con una forma manageriale tale da avere una visione da qua cinque anni programmazione la parola magica ovviamente perché sono operazioni che richiedono tempo che impattano a vari livelli di comunicazione marketing di gruppo contenuto quindi una programmazione e un organizzazione in grado di supportare questo genere di lavoro perché anche il gioco da solo è uno strumento certo e ha bisogno di una serie di professionalità intorno che poi lo comunichino e quindi si ripete io dico sempre fare un videogioco alla fine come allestire una mostra per capi a tanto cioè le problematiche non ci sono le problematiche tipo fisico ovviamente sono altre e vanno gestite da una serie di di figure non solo diciamo dai tecnici dai game design dai game developer e così via che quando quale deve essere un range di budget che un museo ha bisogno di investire in un progetto del genere diciamo così contrariamente a come si può pensare non sono operazioni così costose utilizzare videogiochi diciamo che intorno ai 100 mila euro si fa tutto dalla ideazione alla progettazione alla realizzazione al rilascio sul mercato dove stai andando i tuoi progetti nel medio periodo quali sono come tuo museo ci stiamo indirizzando sulla convergenza fisico digitale dopo una prima fase caratterizzata da progetti quasi integralmente digitali con piccoli riverberi come la modalità cecchino del museo ci stiamo spostando su questa idea di far convergere le due tipologie di esperienza quindi iniziarle fisicamente continuare digitalmente o iniziare digitalmente e continuare poi fisicamente creiamo che sia un territorio ancora poco esplorato in ambito culturale dove ci si focalizza quasi esclusivamente sul fisico e il digitale è quasi sempre un mero supporto a valorizzazione di ciò che si ha fisicamente questo anche nella comunicazione l'idea invece che si possano o creare nuovi da zero nuovi immaginari puramente digitali a cui poi tu aggiungi una componente fisica per esempio uno dei progetti ma non è questo il nostro focus è che father and son quindi è un progetto è un tipo di narrativa che nasce digitalmente una nuova espressione culturale nata digitalmente diventa spettacolo teatrale fisico e quindi sfruttare la capacità di raggiungere masse nuovi pubblici del digitale per poi trovare anche sistemi diversi di sostenibilità di interazione fisica o far convivere contemporaneamente i due aspetti su questo provando a rielaborare a per esempio alcuni concetti portati avanti da team lab sui quali si possono fare si può continuare a rinnovare si questo è un discorso che poi allargando il campo dalle mostre magari all'editoria si può in qualche modo cercare di immaginarlo anche legato ai libri una narrazione che esca dal libro sono dei concetti su cui noi stiamo cercando di lavorare da un po una modalità in cui la narrazione esca dal libro e diventi in qualche modo fruibile attraverso altri canali per poi magari ritornare nel libro e creare insomma questi questi corti circuiti questi giochi alla fine di contenuti che si integrano tra di loro fra l'online e l'offline tra il digitale e l'analogico e la vita reale c'è molto margine ci sarà assolutamente un ritorno alla fisicità dopo un'overdose di esperienze digitali e quindi credo che ci siano ampi margini per farsi per farsi trovare pronti e sfruttare anche i modelli di business che reciprocamente il mondo fisico e il mondo digitale possono possono creare con canali distributivi diversi con access point diversi alla stessa esperienza dove ci si può entrare appunto da un lato piuttosto che che dall'altro credo ci sono gli esempi adesso anche netflix sta provando a sperimentare come under snatch quindi se lo fanno loro vuol dire che comunque hanno già visto che c'è che si va in quella direzione sì 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 credo credo finalmente magari i tempi saranno maturi per quella rivoluzione trasmediale di cui si iniziò a parlare 10 15 anni fa e che poi nella pratica per tutta una serie di motivazioni non si è mai riuscito a fare si è sempre scelto un linguaggio da cui partire era migliore delle ipotesi per attorno a quello creare qualcos'altro la struttura l'arco narrativo anche motivo non è mai stato creato a prescindere dalla piattaforma ad oggi ovviamente perché è molto più complesso deve avere un overview di tutte le possibilità dei modelli di business adattarlo quindi oggettivamente non è facile tante figure professionali diverse cioè da un lato non è facile farlo però in realtà non è neanche facile farlo fluire perché poi dopo non tutti gli utenti sono pronti a passare da una piattaformata noi per esempio in campo editoriale soprattutto ci stiamo un po' provando stiamo scomponendo il libro fisico classico in tante cose differenti che so pubblichiamo il libro tradizionale poi c'è lista book che è il libro sfogliabile nelle stories di instagram il video book l'audio book che ti puoi andare a sentire su spotify e queste cose stiamo cercando di non duplicarle ma farle essere pezzi di un contenuto globale la problematica è quella poi di riuscire a spostare l'utente e che l'utente ci sia su tutti i differenti canali sì se no si perde dei pezzi e a meno che la struttura non venga concepita in maniera tale da rendere in qualche modo ogni piattaforma c'è ogni linguaggio autoconcludente dove il passare su altri media in qualche modo ti puoi aiutare solo a estendere l'arco narrativo ma senza pregiudicarne diciamo la finitezza del singolo quindi ogni canale c'è una struttura finita chi usa in se stessa che finisce in se stessa si saurisce ma se vuoi scoprire comunque tutti gli altri possibili epiroli le backstory che c'erano dietro andare ad approfondire alcuni caratteri personaggi secondari e così via devi ai dei canali diversi su cui andare anche delle dei pricing probabilmente diversi e aggiuntivi magari la main story addirittura gratuita lo coinvolgo e poi faccio in modo questa main story lasci aperti una serie di interrogativi o che su alcune cose non siano tratteggiate in maniera super dettagliata che io possa interagire con quel personaggio su un'altra piattaforma se metto nella prima l'ho sostanzialmente subito e si può forse lavorare su questo insomma c'è tanto su cui lavorare su cui riflettere in questi argomenti qua non facile se non facile però decisamente affascinante è necessario che mi verrebbe da dire se ci tratta di andare comunque a occupare per primi un segmento che potrebbe avere una sua fetta di mercato il problema è strutturarsi e strutturarsi per primi e che si strutturerà per prima un vantaggio competitivo significativo fabio io ti ringrazio di questa chiacchierata speriamo di rivederci magari fra un anno e capire quali sono stati i passi avanti fatti in questa direzione speriamo ci siano grazie a te grazie mille grazie a tutti